si è tenuto il 23 marzo 2017 presso il zanotte l'europa a bologna l'advanced seo tool l'appuntamento interamente dedicato all'approfondimento degli strumenti e delle best practice seo per migliorare concretamente il lavoro di ogni professionista che lavora con la search engine optimization per l'occasione abbiamo incontrato giorgio taverniti siamo a bologna all'advanced seo tool in compagnia di giorgio taverniti giorgio il tuo intervento è stato molto pratico soprattutto sulle cose da utilizzare in maniera pratica ci vuoi dare qualche esempio si ho portato dei casi di utilizzo degli strumenti soprattutto google analytics e search console quando sono insieme sono veramente molto potenti quindi il primo caso che ho portato è come facciamo a sapere cosa cercano le persone dall'estero perché quando hai un sito in italia hai sempre le ricerche che provengono dall'italia invece è bello sapere per esempio cosa cercano dalla francia sempre per il nostro sito quindi è stata la prima cosa sulla quale mi sono concentrato dopodiché mi sono concentrato sui confronti quindi ho iniziato a fare i confronti tipo desktop mobile quali sono le chiavi più cercate da desktop e da mobile per le quali poi arriva traffico al nostro sito e questo è molto interessante perché sapere che c'è una chiave che ci porta molto traffico da mobile ma poco da desktop è un'indicazione che possiamo tenere in considerazione per fare delle modifiche al sito e infine ho concluso con l'ultimo consiglio ho mostrato come si fa a capire le chiavi che sono cercate la domenica o le chiavi che sono cercate solo lunedì facendo anche dei confronti quanto è lo scarto in termini proprio di click o di visualizzazioni o di ctr tra una chiave che viene cercata lunedì e domenica in questo modo possiamo anche avere delle idee per il piano editoriale perché sappiamo che magari determinate chiavi vengono cercate solo il lunedì perché le persone rientrano in ufficio oppure solo la domenica per altri motivi ed è una bella indicazione ma questi strumenti sono pratici da implementare per chi si avvicina diciamo oggi al SEO o sono cose un po' complicate da utilizzare? secondo me sono semplici ma non dal mio punto di vista nel senso che li utilizzo da tanto tempo il fatto è che Search Console che sono gli strumenti per webmaster di Google si abilitano in modo molto facile e si possono collegare a Google Analytics in modo molto facile quindi in realtà l'unione è semplice poi l'elaborazione dei dati che può essere fatta sia all'interno di Google Analytics oppure esportando i dati su Excel diventa un po' più complessa ma non è niente di così complicato perché una volta che abbiamo imparato come si fa in realtà è tutto molto semplice la cosa difficile secondo me negli eventi in genere, nella formazione o comunque nelle cose che si fanno è fare le cose perché quando le vediamo dall'esterno o guardiamo qualcuno che fa qualcosa e dice ma questa cosa è troppo complessa io non la potrò mai fare in realtà la cosa più importante in assoluto da fare appena si torna a casa o i giorni successivi è metterla subito in pratica, farlo subito immediatamente perché facendolo subito immediatamente facciamo esperienza e noi riusciamo a comprendere solo quello dove noi facciamo esperienza il resto non lo comprendiamo perché una cosa è guardare qualcuno che dice come si fanno le cose e un'altra è mettersi a farlo tutto quello che ci mettiamo a fare poi capiamo che in realtà non era così complesso come ci poteva sembrare all'inizio grazie a Cosmano voglio chiedere quanto e quali di questi temi verranno riportati al prossimo Web Marketing Festival sì sicuramente la giornata di oggi era focalizzata sugli strumenti avanzati per la SEO e la SEO sarà una delle varie leve del Web Marketing che tratteremo al Web Marketing Festival quindi un tema assolutamente molto interessante e centrale all'interno della manifestazione ma oltre a questi temi avremo anche presenti i relatori di quest'oggi quindi Filippo Trocca ci sarà anche al Web Marketing Festival Enrico Altavilla ma naturalmente anche Andrea Pernici, Marco Quadrella, Giorgio Taverniti quindi saranno degli elementi centrali questi temi e anche i relatori per la due giorni che ci aspetta a Rimini dove oltre alla SEO tratteremo molti altri temi lo scorso anno ci sono state 26 sale 13 il primo giorno, 13 il secondo giorno sulle principali leve del Web Marketing ed in quest'anno probabilmente ce ne saranno altrettanti con una sala plenaria che tratterà delle tematiche culturali dei dibattiti su tematiche molto rilevanti quale ad esempio Industria 4.0 piuttosto che il nesso tra Editoria e Digitale e quindi insomma la SEO insieme a tutte le altre leve del Web Marketing e a tutto quello che riguarda il mondo del digitale Voglio approdare qualche bella anticipazione del Web Marketing quali sono le sorprese? Soprattutto l'evento diciamo più atteso qual è? Allora diciamo le sorprese non le possiamo svelare altrimenti non sarebbero più sorprese qualche anticipazione sicuramente sul programma avremo alcune novità sulle sale ci sarà una sala dedicata al programmatic e anche una sala dedicata al branding quindi come sviluppare e costruire il proprio brand questi sono sicuramente due aspetti molto nuovi e poi abbiamo la conferma di iniziative quali la Startup Competition organizzata in collaborazione con la stampa e il Rock Contest organizzato con Virgil Radio quindi alcune novità sulle sale tematiche e alcune conferme I giornalisti che partecipano a questo evento cosa porteranno a casa? Sicuramente c'è una parte molto importante per la loro formazione rispetto ai crediti poiché anche quest'anno ci sarà una sala dedicata all'editoria tramite un accordo con l'Ordine dei giornalisti attraverso un'associazione che è primo piano che ne approfitto per ringraziare i giornalisti avranno accesso gratuito alla manifestazione un top i giornalisti primi che si iscriveranno sulla piattaforma Sigef e potranno ricevere i sei crediti formativi quindi innanzitutto questo aspetto legato ai crediti formativi in più avremo modo anche noi di confrontarci con i giornalisti e con le esigenze che loro hanno perché sappiamo quanto il digitale sta influenzando tutto il mondo dell'editoria e la professione del giornalista